Un po'? Ecco, e dite un po'? Cosa potete dire? Sarebbe meglio dire Viva la Costituzione! Va bene, va bene. Allora ci vediamo il 24 di maggio. Allora cosa ne dite di questo incontro sulla Costituzione? Vi è piaciuto? Avete capito che cos'è la divisione dei poteri? Sì! Allora il Parlamento cosa fa? Il Parlamento fa le? Leggi. E invece il potere esecutivo, il governo che cosa fa? Governa, governa. E la magistratura, il magistrato cosa fa? Controlla. Tu controlli, va bene, va bene. Ecco, e poi avete questo schema qua. Allora ragazzi, ci vediamo tutti il 24 di maggio alle 10 e mezza a vedere lo spettacolo dei vostri amici di Acquiterme. E ci sarà anche un po' di focaccia, del miele, insomma un po' da mangiare anche. E lo dà la CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, porta queste cose. E anche la centrale del latte di Alessandria darà degli yogurtini. Bene ragazzi, ciao! Un salutone! Ciao! 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 Ciao!